La cattedrale è il simbolo religioso della città. Il nucleo della chiesa risale al XIII secolo. Precedentemente al suo posto sorgeva una moschea araba e in stile romanico, gotico e barocco spagnolo, a un campanile chiamato miguelete, la cui costruzione in stile gotico risale agli inizi del Trecento. Quest'ultima ha undici campane, a cui sono stati dati nomi femminili. La pianta della cattedrale è a croce latina ed è divisa in tre navate con una busite coperta da una volta di colore azzurro. Sui lati troviamo diverse cappelle. Il santo graal è custodito nell'omonima cappella con muri in pietra lavorata. Nell'altare vicino sono rappresentate alcune scene bibliche, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. I tre portali d'ingresso sono nei tre diversi stili architettonici. Quello principale, detto anche dell'Osierros, è in stile barocco. Su di esso troviamo la figura della Madonna. Il portale del palazzo, molto antico, è in stile romanico. Su di esso spiccano invece volti di 14 persone, gli sposi che si unirono in matrimonio appena dopo la cacciata dei mori. La porta degli apostoli è il stile gotico. Su di esso invece abbiamo le figure della Vergine e del Bambino. Tra le opere pittoriche sono presenti alcuni dipinti del Goia. Grazie.